Ehi là! C'è qualcuno? Jason. Io pensavo fossi morto. Batman? Sei tu? Batman non verrà a salvarti, Jason. Verrà. Sono passati sei mesi, Jason. È ora di guardare in faccia la realtà. Al diavolo! Questo è lo spirito. Sei fatto con lo stesso stampo di Batman. Non che ti servirà granché. Perché non mi uccidi e basta? Cosa? Oh no, 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 no. Non voglio ucciderti. Non ancora comunque. Sei la mia spalla adesso. Immagina, tu e Dio, sempre insieme a fare baruffa e a prendercela con i più deboli. Un vero, dinamico duo. Proprio come Batman e quel suo nuovo moccioso. Lui non lo sarebbe. Tu dici? Quindi questo non è Batman? Oh, strano. Le orecchie a punta di solito non mentono. Non volevo mostrarti quella foto. Davvero no. Ma era l'unico modo per farti chiudere con il passato. Lo so che fa male, ma a volte bisogna essere crudeli per essere gentili. Tutto ok? Sto bene. Pensiamo al prossimo.